Ciao da Afsim! In definitiva le reazioni alla notizia di Andrea Pirlo, nuovo allenatore della Juventus, a livello mondiale, oltre che italiano, sono state veramente molto molto importanti. Nel senso che ne hanno parlato e ne sta parlando tutto il mondo. In tutto il mondo si parla di Pirlo sulla panchina della Juventus, perché Andrea Pirlo è un campione mondiale, di fama mondiale. E infatti, per esempio, tra coloro i quali sui social si sono spesi per Andrea Pirlo, nuovo allenatore della Juventus, c'è David Beckham, grandissimo simbolo del calcio internazionale, pure lui compagno di squadra di Andrea Pirlo al Milan. Gli ha fatto gli auguri, l'in bocca al lupo, diciamo, un augurio per cominciare e portare avanti bene questa esperienza. Pensate, David Beckham. Avevamo già registrato l'interazione, il commento di Cesc Fabregas, che è un po' meno sia di Beckham ma anche di Pirlo, però ragazzi, Beckham, cioè capite che cosa significa? Significa che la Juve ha fatto anche un colpo mediatico, paradossalmente. Ha preso il CR7 della panchina. No, sul serio, non sto scherzando, non è Guardiola, non è Zidane, però stiamo parlando di un ex giocatore, che come allenatore è ancora a zero, questo è chiaro, bisogna ancora una volta rimarcarlo. Però dal punto di vista dell'immagine è tanta roba, è ad altissimi livelli. E quindi adesso tutti sanno chi è l'allenatore della Juventus, mentre prima magari non era così. Perché Sarri certamente ha meno fama di Andrea Pirlo, così come Allegri, su questo non ci sono dubbi. Poi è chiaro che con il tempo le cose possono cambiare, puoi acquisire visibilità. Ma da un punto di vista, ecco, anche dell'immagine, da un punto di vista della credibilità calcistica della Juventus, la scelta ricaduta su Andrea Pirlo può avere dei vantaggi anche in tal senso. Poi è chiaro che è un po' un boomerang, perché se poi Pirlo fallisce o comunque avrà delle difficoltà, lo sapranno tutti. E le aspettative su di lui sono ancora più potenziate. Quindi attenzione, ma lasciamolo lavorare serenamente, come tutti quanti speriamo. E d'altra parte, in questo senso, dobbiamo anche dire che la tifoseria juventina forse con Andrea Pirlo trova anche una pacificazione. Ma lo diciamo dopo, perché prima volevo invece sottolineare un po' la reazione dei tifosi italiani non juventini. Perché mi è sembrata una reazione abbastanza isterica. Il che, tra l'altro, mi incuriosisce, perché evidentemente sanno anche loro, nel momento in cui sviliscono, parlo di interisti e milanisti soprattutto, nel momento in cui sviliscono questa scelta di prendere Andrea Pirlo perché non ha mai allenato, sanno pure loro che invece potrebbe trattarsi di qualcosa di clamoroso. Facile fare il paragone con Guardiola, ma è anche fuori contesto, secondo me. Guardiola è un conto, Pirlo sarà altra cosa. Può darsi che faccia la fine di Ciro Ferrara, tra virgolette, o magari di Clarense Edorf, che quindi sia un flop. Può darsi, ma può darsi che sia un flop. Noi juventini credo che non siamo tutti convinti, anzi, che le cose andranno per forza bene. Siamo anche un po' timorosi, incuriositi, entusiasti sicuramente, per una novità che ci piace. Però poi vedere interisti e milanisti che attaccano Gazzetta per aver coniato l'hashtag, come era, non Pirlomania, come hanno chiamato, Pirlolandia, ecco, bruttissimo tra l'altro. Ecco, la mia personal opinione è che Gazzetta giochi anche un po' su questo, sapendo che la principale utenza, perché poi è così, di Gazzetta dello Sport, del circuito Gazzetta dello Sport, non è Juventina. Sono prevalentemente tifosi di altre squadre, spesso anti-Juventini, anche perché, onestamente, Gazzetta tira bordate alla Juve. Cioè, possiamo dirlo? Sì. La linea editoriale è quella. Quindi, secondo me, nel coniare questo hashtag, Pirlolandia, che è andato in tendenza, hanno voluto anche un po' fomentare i tifosi delle altre squadre, passando per quelli che sono Juventini, Gazzetta. Cioè, Gazzetta è voluto un po' passare per Juventina per avere più interazioni. Diciamo, è anche una strategia che può funzionare da un punto di vista comunicativo. Questo è quello che penso, forse con un pochino di malizia, ma sempre con rispetto. Però molti non l'hanno capito e hanno cominciato a dire che Gazzetta è filo Juventina perché sta già pompando Andrea Pirlo. Ecco, diciamo che io rispetto l'opinione di chi, tifoso della Juve o meno, dice è una scelta che può pagare, ma può anche essere con l'ottoproducente, capisco meno, ripeto, la reazione isterica di chi dice eh, state già ingigantendo uno che probabilmente farà flop, però poi si indignano in senso contrario. Cioè, se ritenete che Pirlo non sia una scelta valida, non dovreste essere così nervosi in questo momento. Ma d'altra parte, i tifosi della Juventus forse possono smettere di essere nervosi e attaccati l'uno contro l'altro in questo contesto con la scelta di Andrea Pirlo. È una speranza, ma è anche già una constatazione. Cioè, credo che Pirlo metta d'accordo tutti. Dopo che con Allegri ci sono stati gli allegriani e gli anti-allegriani, con Sarri ci sono stati gli amanti di Sarri fin dalla prima ora e quelli che Sarri non l'hanno mai potuto accettare. Con Pirlo forse siamo un po' tutti pirlisti, o non lo so come possiamo dire, pirliani, pirleschi, non so, dite come volete, sono un po' nuovi termini da coniare. Anzi, cerchiamo di evitare di coniare nuovi termini, perché l'unità potrebbe portarci a tornare ad essere tutti indistintamente giuventini, che poi non è una cosa che auspico, perché la diversità di opinioni fa bene, ci fa crescere, il confronto ci fa crescere, l'appiattimento non è mai auspicabile. Ma non si tratterebbe di appiattimento, si tratterebbe magari di ritrovare una sorta di conciliazione tra di noi come tifosi giuventini, cioè un po' tutti più a sostegno della squadra e dei suoi risultati, a prescindere, senza pregiudizi, né in un senso né in un altro nei confronti dell'allenatore. La reazione da questo punto di vista del popolo giuventino a me è piaciuta, perché non ci sono stati degli estremismi, c'è stata grande moderazione. Chi ha avuto l'entusiasmo, ha avuto però anche l'accortezza di sottolineare come può essere anche un salto nel vuoto, ed è un rischio, perché è stata una scelta coraggiosa. Chi invece è stato più scettico come a dire ma come avete preso un allenatore che non ha mai allenato, però insieme ha detto eh però si tratta di Andrea Pirlo, tanta roba, e magari ha anche accostato l'immagine appunto di un Guardiola o di uno Zidane. Quindi in questo momento la tifoseria giuventina ritrova unità, ritrova unione e coesione, che è una cosa molto importante che c'è mancata in questi sei anni, ma forse pure prima con Conte, devo dire. Io per esempio ricordo che nel 2014 ho finito per essere un po' contrario ad Antonio Conte per il suo atteggiamento, per quel fatto di pensare ai 102 punti invece che alla finale di Europa League in casa, per il fatto di non essere stato capace di portarci in avanti in Champions League, tra l'altro. Insomma, poi le opinioni sono sacrosanti, ripeto, ognuno deve avere un'opinione, ci confrontiamo, diciamo che tutte le opinioni sono legittime se vengono espresse in una certa maniera, ma nessuno deve per forza avere ragione sull'altro, a presidere. Dobbiamo confrontarci, è anche il mio ruolo come creatore di contenuti che percepisco è questo, di darvi l'opportunità di confrontarvi e di darvi la mia opinione, senza però dirvi che quello che penso io è migliore del pensiero degli altri. Spero di non averlo mai fatto, se l'ho fatto vi chiedo scusa, sono stato anti-allegriano negli ultimissimi mesi, perché prima ho sempre avuto il rispetto del lavoro di allegri criticandolo, ma criticare è una cosa, essere opposto ad una persona e ad una situazione è altra cosa, e non sono mai stato sarriano, sono stato entusiasta sulle primissime ore del lavoro che sembrava Sarri stesse facendo, ma sono stato anche uno dei primi, già a novembre, a dire che Sarri ha mollato la presa, non si stanno più vedendo miglioramenti. Questo per dire anche come, qual è stato il mio percorso, ma anche qual è stato il percorso di, mediamente, la parte moderata forse del tifo juventino, rispetto ad Allegri e rispetto a Sarri, alla luce del lavoro, alla luce dei risultati, e quindi con la giusta intelligenza nel fare le critiche, che possono essere sempre, possono essere spesso vantaggiose, se costruttive, ma anche Pirlo, da questo punto di vista, dovrà essere soggetto a critiche, se sbaglierà, speriamo però, di doverlo criticare pochissimo, e che sia in grado invece di fare cose straordinarie. In chiusura però, volevo fare un ultimo passaggio su Sarri, perché, in tutto questo, se dal punto di vista mediatico, Pirlo è un grande colpo, e ce ne siamo accorti a livello mondiale, Sarri è stato praticamente calpestato, in queste ore. Ci rendiamo conto, che Sarri non ha rilasciato, nessuna dichiarazione, ad oggi, a questa mattina, 10 agosto? Zero. Nessun giornalista, si è preso la briga, di andare a chiedere come la pensa. La Juventus, non gli ha concesso dichiarazioni ufficiali. Persino Antonio Conte fu messo lì come un deportato, come un ostaggio, davanti alla telecamera. Gli fu imposto, perché probabilmente gli fu detto, ah sì, te ne voglio andare, è bene, però adesso ti assumi la responsabilità, e parli davanti ai microfoni. Ad Allegri, dopo cinque anni, è stata fatta una conferenza stampa, enorme. Sarri è stato mandato via, è stato cacciato, ma proprio cacciato, nella maniera più rapida possibile. Questa non è una cosa non significativa, è una cosa rilevante, di cui tenere conto. Non è praticamente mai successo, se non molto tempo fa. Quindi, in anni recenti, la Juve ha trattato diversamente i suoi allenatori. Questa presidenza, questa dirigenza, ha trattato in maniera diversa i due allenatori precedenti, che se ne sono mandati. Quindi Sarri è stato cacciato, e non gli è stato dato nessun modo, di esprimersi, di parlare, di dire la sua, in questo momento. Non solo, ma tutta la stampa, si è rivoltata contro. Che da un punto di vista umano, non se lo merita. Può aver fatto tutti i danni, che ha fatto, tutte anche queste storie, che stanno venendo fuori, Douglas Costa, incazzato perché fumava, Ronaldo che non poteva vederlo, quelle battutacce negli spogliatoi, sono secondo me, tutte cose strumentali. Non voglio giudicare male, il lavoro dei giornalisti, o dire che scrivono cose false, perché magari sono vere. Io non ci credo molto, onestamente, a queste ricostruzioni, perché arrivano tra l'altro, a orologeria. Perché fino adesso, non ci avete detto, che Douglas Costa, detestava che Sarri fumasse? Perché fino adesso, non ci avete detto, Lerare Sarri ha detto addirittura, se il resta Sarri me ne vado. Perché fino adesso, non ci avete detto, di quella battuta, o di altre battute, o se ce l'avete detto, non ce l'avete ricordato, precedentemente. Cioè, mi sembra che sia stato, veramente, rivoltato tutto, addosso a Maurizio Sarri, in maniera anche ingenerosa, da parte della stampa. Non ha avuto, praticamente, stampa a favore, ma mai, mai, nonostante prima, di venire la Juve, ne avesse di stampa a favore. Hanno inventato il sarrismo, per lui. Hanno inventato la Sarri Ball, Juve, il grande Sarri, che rappresenta il vero calcio, mentre la Juve è speculativa, e pensa solo a vincere. Me le ricordate queste cose? Appena Sarri è diventato l'avete della Juve, è diventato lo schifo umano e professionale. Onestamente, provo pena. Cioè, sinceramente, mi tocca questa cosa. Non è giusto, non è assolutamente giusto, eco e ponderato, quello che è stato il trattamento riservato a Maurizio Sarri, da parte della Juve, ma soprattutto da parte della stampa, che prima era a sostegno di Maurizio Sarri. Tra parentesi, alla fine, io ieri vi ho parlato dei post social dei giocatori, delle reazioni social dei giocatori alle zone di Sarri e alla chiamata di Pirro, dobbiamo aggiungere che si sono appunto inseriti anche Di Bala, che ha ringraziato e salutato Maurizio Sarri e Chiellini, che invece non ha fatto. Chiellini, che ha fatto il suo bilancio stagionale, non ha minimamente parlato di Sarri. È normale che il capitano della Juventus non ringrazi e saluti l'allenatore che se ne va? È portavoce della dirigenza in tal senso, mentre Di Bala è portavoce di un'anima dello spogliatoio. In questo senso, secondo me, è più capitano Di Bala di Chiellini perché a prescindere il capitano dalle antipatie, dalla soggettività e dalle situazioni, deve assolutamente avere una lealtà. Questa si chiama lealtà professionale per come la vedo io. Chiellini non l'ha avuta. Per me è una cosa grave, rilevante, significativa. Del fatto che Sarri non abbia attecchito vi ho già parlato, quindi mi fermo qui. Vi ringrazio per l'attenzione, fatemi sapere come la pensate di questo che vi ho detto e mettete like al video se vi è risultato utile ed interessante. Iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche se volete restare in mia compagnia. Ci vediamo molto presto e sempre forza Juve!